Da circa un decennio l'intelligenza artificiale viene applicata anche alla produzione artistica e sorge la domanda se i prodotti dell'intelligenza artificiale siano opere d'arte o non piuttosto artifici. La risposta a questa domanda è in realtà più complessa di quanto possa apparire a prima vista e ha ricadute anche su diversi piani. Infatti non solo l'estetica filosofica, ovvero la risposta alla domanda che cosa fa di un oggetto un'opera d'arte, ma anche l'etica e il diritto sono provocati dalle questioni sollevate dall'intelligenza generativa nella produzione artistica. Quando ad esempio un algoritmo adattivo viene addestrato per la prima volta con un set di dati di centinaia e centinaia di ritratti dal XVIII al XIX secolo e genera autonomamente un portrè inedito intitolato Edmond de Balamy che viene battuto all'asta a New York nel 2018 per 432.000 dollari circa, sorge la domanda chi detiene il copyright di quest'opera? Il collettivo di artisti che si cela dietro l'algoritmo oppure l'algoritmo creativo stesso? E come regolare poi il copyright di tutte le opere che sono state incorporate e digerite nel database sorgente del software? O cosa dire del progetto The Next Rembrandt? Un team di informatici olandesi ha infatti alimentato l'algoritmo con 346 originali di Rembrandt scansionati tridimensionalmente. L'intelligenza artificiale ha dunque imparato a riconoscere i tratti e i chiaroscuri tipici del maestro e ha generato un nuovo originale che imita in tutto e per tutto lo stile e la combinazione di colori di Rembrandt, l'uso della luce, ma appunto produce qualcosa di inedito. Ci troviamo allora di fronte ad un falso o ad un originale. Dipinti di questo tipo vengono oggi venduti a prezzi molto alti. Alla luce di questo sviluppo che probabilmente nei prossimi anni è plausibile pensare riceverà un ulteriore incremento, la domanda per la filosofia estetica, per l'estetica filosofica, non può essere più che cosa fa di un oggetto un'opera d'arte, ma piuttosto quale concezione dell'arte può comprendere e allo stesso tempo distinguere sia i risultati della creatività umana sia i prodotti della creatività artificiale. A mio avviso una possibile risposta a questa domanda risiede in una precisa differenziazione del concetto di creatività. Per avvicinarsi al tipo di creatività di cui è capace l'intelligenza artificiale è necessario, a mio avviso, prendere anzitutto atto del funzionamento del software applicato alla produzione di arte visiva. Degno di nota a tal riguardo è lo studio di un gruppo di ricerca americano presentato durante un convegno di informatica in Atlanta dal 20 al 22 giugno del 2017. Lo studio è certamente datato ma è pionieristico nel presentare una matematizzazione della creatività di cui è capace l'intelligenza artificiale. L'ambizione di questo team è stata quella di passare da un Generative Adversarial Network ad un Creative Adversarial Network, ovvero da un'intelligenza generativa a un'intelligenza artificiale creativa. Come ha ottenuto questo team di ricerca il suo obiettivo? Come ha realizzato il suo scopo? Anzitutto, e lo dico da laico della materia che si è occupato brevemente della questione, ma certamente gli esperti informatici potrebbero a riguardo essere ancora più precisi e dettagliati nella spiegazione del funzionamento di un tale tipo di algoritmo, un GAN, cioè un Generative Adversarial Network, è composto da due sottoreti. Un Generatore e un Discriminatore. Il Discriminatore ha accesso a un insieme di immagini, possiamo chiamarle immagini di addestramento, e cerca di distinguere tra immagini reali, ovvero quelle del set di addestramento, e immagini false, quelle create dal Generatore. Il Generatore infatti non vede le immagini del set di addestramento, e senza vederle cerca di generare immagini simili, grazie agli input, agli impulsi che il Generatore riceve dal Discriminatore. Secondo il team, questo sistema binario, che lavora mediante un anti-rivieni contraddittorio, presenta o presentava delle limitazioni strutturali, che impedivano al software di essere davvero creativo, ovvero di discostarsi dagli stili consolidati, e dunque di estendere lo spazio creativo. E si stessi dicono che questo tipo di intelligenza artificiale è imitativa e non creativa. Per superare questa impasse, ed arrivare dunque ad un Creative Adversarial Network, i ricercatori hanno modificato il sistema, ovvero hanno introdotto un nuovo criterio nel ritmo di anti-rivieni fra generatore e discriminatore. E in questo hanno preso ispirazione dalla teoria proposta da Colin Martindale per spiegare come avvengono le rotture stilistiche nella storia dell'arte. Martindale si rifà al principio del minimo sforzo, ovvero alla celebre curva di Wundt. Un potenziale di eccitazione troppo basso viene percepito come noioso dal destinatario, mentre un potenziale di eccitazione troppo alto attiva il sistema di avversione, dunque conduce, porta ad una reazione negativa. Quindi le persone preferiscono stimoli che sono esattamente nel mezzo, che trovano il giusto equilibrio fra troppo leggero e troppo brusco. Martindale ipotizza dunque che i geni creativi, quelli cioè che introducono una vera rottura stilistica nella storia dell'arte, cerchino sempre di aumentare il potenziale di eccitazione della loro arte per contrastare la sua effazione. Tuttavia questo aumento dell'eccitazione deve essere minimo per evitare reazioni negative da parte dei fruitori, da parte degli spettatori. È questo in fondo il principio del minimo sforzo, o ebbene la celebre curva di Wundt. Mediante l'introduzione di questo criterio e quindi ispirandosi a questi presupposti, il team ha assunto la curva di Wundt come livello aggiuntivo di controllo nel rapporto fra generatore e discriminatore. Una vasta collezione di immagini d'arte dal XV al XXI secolo è servita come base per l'addestramento del sistema, ovvero del discriminatore, il quale ha via via dato impulsi al generatore calibrati dalla curva di Wundt in modo da creare opere d'arte inedite, che non sono pedissequamente la riproduzione del database, dei materiali presenti nel database, ma che allo stesso tempo sono creative senza violare la curva di Wundt. Questo ha permesso dunque al software di generare artefatti originali che massimizzavano la deviazione dai concetti stilistici stabiliti, riducendo al minimo però l'irritazione. Sembra dunque che questo team abbia trovato la formula alchemica per produrre in laboratorio, per così dire una certa opere con una certa aura. E i prodotti di questi processi, insieme ad altri prodotti artistici di noti autori contemporanei, sono stati poi presentati in forma anonimizzata al giudizio di un gruppo di controllo. E ai soggetti è stato chiesto di giudicare la serie di opere secondo una precisa scala di valori, likeness, human, intentionality, composition, communication, inspiration. La reazione ora di questo gruppo di controllo davanti alle opere generate dall'intelligenza artificiale è stata poi confrontata con la loro reazione davanti alle opere create da autori umani. I risultati sono stati sorprendenti. I soggetti del test, infatti, non sempre hanno saputo distinguere l'arte generata artificialmente da quella prodotta da autori contemporanei. E in alcune voci, in alcuni pochi casi in verità, hanno anche valutato come superiori le immagini create dalla intelligenza artificiale. Questo studio è, a mio avviso, molto interessante perché rappresenta il primo esempio davvero complesso e pensato in cui l'intelligenza artificiale ha dato prova della sua creatività. Ma ora sorge la domanda, quale tipo di creatività ha dimostrato questo tipo di sistema? Per rispondere a questa domanda, che è la domanda decisiva, possiamo distinguere con Margaret Bowden tre forme di creatività. La Bowden parla di una creatività esplorativa, una creatività combinatoria e una creatività trasformativa. La creatività esplorativa avviene all'interno di un sistema o di un codice esistente e ne esplora i limiti estremi, espandendo i confini del possibile senza tuttavia infrangere le regole del gioco, per così dire. Questa forma di creatività, che secondo Bowden rappresenta il 97% della creatività umana, si esprime in particolare nei sistemi informatici che vengono utilizzati ad esempio per risolvere problemi matematici, oppure per giocare a scacchi, è che nell'ambito di regole precisamente definite sono in grado di eseguire una somma di calcoli superiore e naturalmente in termini di velocità e di quantità molto superiore a quella del cervello umano. Tuttavia, da questa creatività esplorativa non si possono aspettare risultati radicalmente inaspettati. Nel secondo tipo di creatività, la creatività combinatoria, due aree o sistemi di regole vengono combinati fra di loro e nella loro interazione emerge qualcosa di nuovo. Se ci pensiamo, molte conquiste in matematico e in fisica sono proprio il risultato di questo incrocio di teorie o modelli o paradigmi diversi. In senso stretto, l'intelligenza artificiale si basa proprio su questa forma di creatività additivo-combinatoria, in quanto essa è in grado di generare qualcosa di nuovo a partire dalla combinazione di una data quantità di dati in modo algoritmicamente interessante, che si tratti ora del dipinto di Edmond de Balamy o del The Next Rembrandt. La forma però più alta di creatività è quella che Boden chiama creatività trasformativa. Si tratta di quei rari momenti in cui uno scrittore come Joyce, un fisico come Einstein o Marie Curie, un musicista come Schoenberg, un pittore come Picasso, capovolgono il paradigma vigente introducendo una innovazione radicale che ribalta le precedenti regole del gioco e introduce qualcosa di veramente inedito e inaudito. Ogni movimento artistico come il romanticismo, l'espressionismo, il cobismo ne sono un esempio. I loro rappresentanti hanno anzitutto preso atto del paradigma o del canone artistico al loro contemporaneo, lo hanno criticato e, in alternativa, hanno inaugurato un nuovo stile di dipingere e di rivedere il mondo. L'algoritmo, invece, che pure digerisse centinaia e centinaia di immagini o concetti stilistici, nulla sa del loro significato, della loro storia, né del modo in cui ciascuno di questi artisti ha cercato di abitare il mondo mediante la pittura. A differenza di questi processi esplorativi combinatori, la terza forma di creatività, ovvero quella trasformativa, può essere attribuita solo all'essere umano, in quanto unità corporeo-spirituale, in quanto intenzionalità incarnata, costitutivamente in relazione mentale, corporea e affettiva con se stesso, con l'altro, con il mondo, con la storia. Solo la persona può essere attiva in tal senso. Non esisterà dunque mai un modello di intelligenza artificiale in grado di raggiungere o addirittura di superare questa forma di creatività trasformativa. E questo contro la tendenza da più parti presente di ontologizzare i procedimenti algoritmici, i procedimenti tecnici tipici della intelligenza artificiale. A per guardare dunque l'aura delle opere d'arte prodotte dall'uomo non si basano sulla curva di Wundt, non si basano cioè sulla relazione o sulla reazione del committente o sulle aspettative del del recipiente. Ma si basa ed emerge dal framezzo fra stati mentali, fisici, affettivi, spirituali, che sono sempre pienamente presenti nella persona dell'artista e in forma mediata anche nella sua opera, che lasciano le loro tracce nell'opera d'arte prodotta dall'uomo. Tuttavia, e parlo comunque di framezzo, between, tra tutti questi elementi, il suo essere nel framezzo fra elementi fa sì che non sia possibile localizzare singolarmente gli elementi che sono costituenti l'aura. Quindi non possono essere estrapolati in modo da ricavarne un codice che poi possa essere imitato da un algoritmo, del resto un algoritmo pur sempre creato dall'uomo. Il ruolo dell'uomo nella creazione di queste immagini di alta qualità come quelle che ho menzionato non deve essere taciuto, come se l'intelligenza artificiale, dunque l'arte prodotta dall'intelligenza artificiale, sia stata creata solo dall'algoritmo. Tutto ciò significa che oggi è certamente inevitabile, diventato inevitabile, un ampliamento della semantica di ciò che può essere etichettato come arte. Dopotutto, ottimi quadri generati dall'intelligenza artificiale sono espressione di creatività esplorativa combinatoria, cioè non sono artefatti, ma sono davvero opere d'arte. Tuttavia le aspettative acritiche di chi vuole dotare lo strumento dell'intelligenza artificiale di caratteristiche quasi umane, come la coscienza, la capacità decisionale o la spontaneità, queste aspettative sono destinate a essere frustrate e a fallire. Per quanto infatti la complessità dei sistemi artificiali aumenterà nel corso dei prossimi anni, è destinata ad aumentare, essa non produrrà mai intenzionalità umana. Il concetto di arte dunque può essere ampliato, ma non quello di mente o di spirito. una cosa rimane, a mio avviso, alla fine di certezza matematica. Anche in futuro potremo aspettarci solo da artisti umani qualcosa che metta in scena una maniera completamente nuova di vedere e abitare il mondo. Non dunque i prodotti dell'intelligenza artificiale, ma essa stessa ne è una prova.